green ass italia produce fertilizzanti speciali e biostimolanti si dal 1985 l'azienda è situata in canale d'alba in piemonte produciamo fertilizzanti speciali e biostimolanti prodotti utili all'efficienza dell'apparato radicale si da qualche anno abbiamo sviluppato un prodotto che si chiama vivema prodotto di qualità che va ad agire sull'apparato radicale quanto è importante fare ricerca nel vostro settore molto importante green ass italia è impegnata da sempre a garantire la qualità e l'efficacia dei propri prodotti prima di presentare un prodotto sul mercato sviluppiamo o facciamo delle prove dei saggi sia per quanto riguarda la stabilità del prodotto che l'efficacia per almeno 3 4 anni perché scegliere green ass italia e i suoi prodotti perché noi cerchiamo di garantire la qualità dei prodotti sia dal punto di vista della stabilità e sia dal punto di vista dell'efficacia agronomica